Ciao, Mtv. Sono Paolo Di Bala. Benvenuti a casa mia. Io e la mia fidanzata ci siamo trasferiti qui da poco. Lei è Oriana. Ciao. Come avete visto, avrò una squadra di produzione davvero incredibile. Perciò, spero che vi piaccia e vediamo come va. Posso dire di essere abbastanza esperta perché ho realizzato da poco un video in casa da sola. Perciò, sono fiduciosa. Andiamo, Mtv. Vi mostro la casa. A questo è il salotto. Dove passiamo molto tempo insieme, chiacchieriamo, mangiamo. È una zona comoda, carina, tranquilla, con una bella energia. Adesso voglio farvi vedere il posto che preferisco. Guardate. Per me qui... È il massimo. Anche se spesso la mia fidanzata me lo ruba o vuole stare qui perché sa che è il più comodo e sa che è il mio trono. Cosa? Cosa? Il tuo trono? Per me sta dicendo bugie. Perché io ho il mio posticino, cioè questo. Però a volte, se guardiamo una serie, un film o altro, l'idea è di farlo insieme. Quindi sì, mi siedo accanto a lui su questo divano. Bene, ragazzi, adesso vi mostro i trofei che ho vinto qui con la Juventus. Ne ho qualcuno della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana. Giocatore del mese, miglior giocatore della partita. Tre trofei del premio agli 11 migliori giocatori dell'anno della Federazione Italiana. Sono molto orgogliosa del mio amore. Soprattutto perché so quanto lavoro c'è dietro ogni premio. Mi ha dedicato un gol, anche se una volta mi aveva detto che lui non dedicava mai i gol. Hai fatto il gesto che ci scambiamo quando siamo lontani e significa ti amo. L'abbiamo preso da un film che in realtà il significato nel film non è il massimo, ma per noi è molto dolce. Sì. Bene, MTV, vi ho mostrato il salotto. Perciò ora vediamo qualcos'altro. Seguitemi. Ragazzi, lei è Kaia. È solo un po' timida. Adesso ve la presento. Saluta. A dire il vero il nome l'ha scelto Oriana. Non mi ha ascoltato. Ma alla fine è andata bene perché... Che bugiardo! Avevamo tre nomi, Vega, Navi e Kaia. E a una delle mie migliori amiche... A me piaceva. Ah, l'hai scelto per la tua amica? No, ha scelto la maggioranza. Ho chiesto a tre persone, mia sorella, la mia migliore amica e il mio ragazzo. A due di loro piaceva Kaia. Quindi l'hai scelto tu, non io. No! Sì? No. Bene, non mettiamoci a discutere, altrimenti ne parliamo dopo. Oriana è molto severa. Io sono più permissivo. No, 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 no. Io la lascio andare dove vuole. No, 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 no. Ha rotto moltissime cose. Non sono cattiva, ma insomma, deve imparare, altrimenti fa quello che vuole, dove vuole e quando vuole. E non si può.